Ci sono state delle cose che hanno molto contribuito al fatto che se ne parlasse. Intanto sono venute fuori una valanga di intercettazioni diverse che hanno messo in seria difficoltà l'Inter. Non ci scordiamo che l'Inter sta usando la prescrizione perché altrimenti sarebbe stata deferita e deferita con argomentazioni usate dal Pubblico Ministero della Fedecalcio molto pesanti. Quello che bisogna semmai ricordare di fondo è che due colpevoli non fanno un innocente. Se l'Inter fosse colpevole al 50% della Juve o fossero tutte e due colpevoli, non significa che diventano innocenti perché il tuo avversario ha commesso la tua stessa colpa. Sono due colpevoli, non solo. Ma quando Moggio Facchetti telefonavano agli arbitri, perché telefonava anche Facchetti, ce ne sono le registrazioni, era per avere che cosa? Quando Bergamo gli dice, vedrai che con... Facchetti si lamenta che con quell'arbitro non vincano mai. Bergamo gli risponde alla lettera, vedrai che questa volta non dovrai più dire così. L'avversario non era mica la Juve. Chi era? Era un danneggiato che andava a perdere, a giocare con l'Inter, con un arbitro favorevole all'Inter. Cioè, io non voglio riportare, rientrare in quel tempo, ma anche Moratti deve stare attento a quello che dice. Perché lui nel 2006 faceva pedinare i suoi dipendenti, faceva pedinare e mettere sotto controllo i telefoni dell'arbitro De Santis. Cioè, se dobbiamo voltare la pagina, voltiamola tutta insieme. Non può essere la classifica della sfiga. Tu cattivo, tu cattivo e prendi dieci, tu cattivo ne prendi otto. Ci sono stati errori diffusi, chi più chi meno, certamente alcuni molto di più, ma ci sono stati errori che hanno subito gli altri. Non la Juve l'Ital, hanno subito gli avversari. Quindi, calma.